Cari amici, cari bambocci, saluti sibaritici e catafratti dall'esimio egregio maestro, maestro con la M maiuscola, altrimenti mi offendo, non ho tempo di farvi tutta la intro perché vado di fretta, perché il tempo è denaro, the time is the money, ma vi dico solamente che i voti stanno facendo effetto, guardate qui dove siamo dodicesimi nel mondo, nella regione Colosseo, chiaramente. Ora, siccome le votazioni stanno andando bene, non bisogna frenarsi adesso, è proprio adesso il momento di accelerare, di tarellare, di andare ancora più forte, di spingere come i cavalli di Nevio, Nevio ha puntato su Varenne, capito, ma non ci ha puntato 5 euro, ci ha puntato 5 pali e si è messo a bere, noi non facciamo in modo che il nostro cavallo si fermi a bere, il nostro cavallo deve superare l'ostacolo e arrivare primo. Proprio per questo vi ho preparato un link incredibile, che non è più come prima che vi dicevo, andate sulla pagina, cliccate, selezionate Colosseo, scrivete 29 di X e poi votate. No, adesso abbiamo un link ancora più facile da passare a amici, parenti, nonne, zii, cugini, fratelli, nipotri, amanti della mamma, anche ad Aziz se volete, lo passate al pizzaiolo e dite tu sei l'amante di mia mamma, quindi vota, vota. Con questo link che potete trovare nella descrizione del video, come primo commento evidenziato di questo video, sotto le mie live a richiesta, ogni tanto lo spammo nella chat di Twitch, lo trovate ovunque. Grazie a questo arriverete direttamente sulla pagina e dovrete cliccare semplicemente vota. Questo link vi permette già di aver selezionato Colosseo, vi permette già di aver selezionato la nostra alleanza, quindi è molto facile anche da passare a chi non se ne intende. O i vostri amici che hanno un culone pesante e non hanno voglia, no, non ho voglia, fra, non vado sul link a cercare 29 di X, fra, il tempo è denaro, bro, fra, così almeno non devono rompere i coglioni, dici, clicca qui e non rompere il cazzo, se no mi scopo tua sorella. E perché? Perché? Perché qualcuno mi ha chiesto, sì ma capo, ma metti caso che vinciamo, no? Ma cosa succede? In che cosa si sostanzia la vittoria? E sosa si sosasso? Ah, avvocato, c'ho una ferita nel cuore, perché leggete qui, leggete qui. Allora, dicesi, dicesi il messaggio ufficiale, questo è il messaggio ovviamente della mail che ha inviato la Lilith, dice la Lilith, Rise of Kingdoms ha anche collaborato con il Museo Nazionale Romano per ripristinare la gloria di Roma con un grande tavolo di sabbia che sarà esposto a luglio in una storica villa romana. Quindi ci sarà in una villa romana un tavolo di sabbia con le bandierine di tutte le alleanze che hanno vinto e trionfato. Facciamo sì che almeno un'alleanza italiana, siamo solo noi in gioco, possa essere presente su quel Museo Nazionale, su quel tavolo di sabbia. Non portiamo a Ziz il kebabaro, non prendiamo quell'altro, l'americano, il russo, il cinese, cioè noi dobbiamo essere lì, perché Roma è anche Italia e l'Italia è Roma. Quindi dobbiamo essere lì. Un'alleanza italiana è fondamentale che ci sia, perché altrimenti non contiamo un cazzo. Allora, chiudiamo il gioco, andiamo a giocare a Brewstar e a sparare come dei coglioni. Quindi, mi raccomando, votate e fate votare 29dx. Con il comodissimo link che ho preparato per voi, vi troverete direttamente sulla pagina. Questo è un link a prova di annoiato, a prova di non c'ho voglia fra, di cliccare, di cercare. Con quel link, tac, ti trovi subito sulla pagina, devi solo cliccare praticamente voto. Tac, 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 10 volte. Con tutti i dispositivi, con tutti gli IP, non so, vi collegate con l'hotspot del parchetto, votate. Siamo l'unica alleanza italiana ancora in gioco, in questa modalità. Dobbiamo essere su quel tavolo. O ci arriviamo, o si muore, avete capito? Animali. Quindi votate, votate. Io vi ringrazio tutti, chiunque ha votato, con più hotspot, con più IP, qualunque cosa. Tanto lo sapete che gli Imperium fanno tutte le cammellate, tricche, ballacche. Quindi anche noi dobbiamo difenderci da questi assalti. Ragazzi, non è finita perché siamo dodicesimi, ma dobbiamo tenere. Quindi, continuate a votare. Mi pare che sia fino al 29, quindi c'è ancora tantissimo tempo. E il vostro voto potrà confermare o ribaltare il risultato. Hai capito? Quindi, mi raccomando, vota e non fare il pigrone. Non fare il pigrone, perché l'Italia ha bisogno di te. Ta-tan, 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 ta-tan. Va fa-moc!